Care e cari pescaresi, anche questo Natale sarà diverso da quello che ci appartiene per esperienza, per tradizione familiare, per spirito cristiano e per una ritualità fatta di piccoli e di grandi gesti. Viviamo un'epoca che ovatta il senso della festa, perché un evento straordinario ci condiziona in tutti gli aspetti della vita, ma noi sappiamo far vincere su tutto i valori spirituali della famiglia e delle amicisi più care, della condivisione e della convivialità. E questo è il significato del Natale, la festa più sentita perché possiede profumi, sensazioni, atmosfere e colori unici. Una tavola più piccola ci restituisce comunque un Natale dell'intimità familiare e degli affetti più profondi, in una dimensione davvero inclusiva. I nostri cari, i nostri ragazzi, i nostri anziani, le persone più deboli della nostra sfera domestica potranno essere ancora più vicini al nostro cuore. In questo anno abbiamo saputo trovare le energie per reagire e per rialzarci dalle difficoltà. E voi tutti siete stati la dimostrazione quotidiana del nostro essere e sentirci pescaresi, aperte alla solidarietà e alla generosità. Come sindaco sono orgoglioso di voi. I miei auguri sono pertanto un attestato di stima e di riconoscenza per come siete e per quello che fate. Il Santo Natale sia dunque un momento di vita vera, di gioia, di serenità nel senso dell'insegnamento cristiano e della nostra esperienza di donne e di uomini che vivono, lavorano e operano nella nostra città e per la nostra pescaresi. Auguri di cuore di Buon Natale.